Grazie Presidente, io soltanto per ricordare questa è un'opera di cui si è parlato molto negli ultimi tempi che questa amministrazione ha fortemente voluto interloquendo con il Ministero, interloquendo con tutti coloro che avevano a cuore l'interesse della città perché come ho più volte voluto ricordare, troppo spesso questa città è stata ostaggio di battaglie che facevano riferimento a motivazioni altre che quelle reali per le quali si stava discutendo. Ritengo quest'opera un'opera importante, un'opera pensata nel migliore dei modi, che ha affrontato, ripeto, ben due conferenze dei servizi, diversi studi di viabilità tra cui gli ultimi sono aggiornati allo scorso anno prevedendo anche l'inserimento dell'opera dello stadio quindi verificandone tutti i minimi dettagli e quindi ritengo che il voto favorevole sia in coerenza con quanto si è fatto nelle diverse forze politiche evidentemente negli ultimi anni e quindi ringrazio Calabrese per l'invito al voto e chiudo qui il mio intervento perché credo che non ci sia altro da aggiungere. Grazie.